Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguri, in questo video parliamo di un lutto in primis per Antonella Clerici, ma più in generale per tutta la televisione italiana, ci lascia uno dei protagonisti che più abbiamo apprezzato negli ultimi anni e prima di saperne di più vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 700 mi piace, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo, non dimenticate di attivare la campanella, in tal caso le notifiche arriveranno direttamente sul vostro cellulare, nelle ultime puntate di E' Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha voluto ricordare un grande personaggio, un protagonista che non c'è più, ospite fisso da prima della prova del cuoco e successivamente di E' Sempre Mezzogiorno, il 25 febbraio 2022 è venuto a mancare Fabio Picchi per chi non lo conoscesse o semplicemente per chi non lo ricordasse, diciamo che Fabio Picchi è stato uno chef, uno scrittore, un filosofo e un personaggio televisivo, un personaggio che non esiteremmo a definire una colonna della prova del cuoco, ospite fisso di Antonella Clerici, Fabio Picchi, era apprezzato da tutti e a ricordarlo c'è stato anche l'ex premier Matteo Renzi che ha scritto, se ne va una colonna di Firenze e a ricordarlo in ambito televisivo ci ha pensato, anche la grandissima Anna Moroni che ha dichiarato caro amico mio adesso sei in cielo con Beppe Bigazzi che per te era come un fratello, il prima donna di Marco Liguori con grande dispiacere ricorda Fabio Picchi scomparso a 68 anni a seguito di una brutta malattia. Amici di Youtube io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video.